Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Avete visto la nuova casa della conduttrice Mediaset? Michelle Luntziker ha acquistato una nuova casa dopo la separazione dal marito da fare invidia Michelle Luntziker, conduttrice svizzera con cittadinanza italiana, è stata negli ultimi mesi al centro dei gossip dopo aver annunciato la separazione dal marito Tommaso Trussardi Per mesi è stata sulle copertine di settimanali italiani e non soli con quella che pare essere la sua nuova frequentazione, il chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini, anche se ora pare che la coppia già sia scoppiata Ma quella che fa parlare ora è la nuova casa della Unziker. Nei tanti cambiamenti della sua vita nell'ultimo periodo c'è stata anche un trasferimento in un'abitazione spettacolare E mentre si attendono di vedere foto della nuova casa di Michelle i più attenti hanno già scovato scorci della casa e alcuni dettagli E da questo si inizia a capire che la nuova casa della Svizzera fa davvero invidia La Unziker si trasferisce a Milano, ecco la sua casa.La nuova casa della Unziker si trova a Milano, più precisamente nel quartiere di Milano City Life Un trasferimento in centro rispetto all'appartamento dove Michelle viveva con l'ex marito e le due figlie, Sole e Celeste, a Bergamo Una villa da sogno da mille metri quadrati con un ampio terrazzo che ha vista su tutta la città Ma non solo anche un grande giardino, un angolo bare e un angolo palestra Tanti cambiamenti per la bionda Svizzera su molti aspetti della sua vita, da quello amoroso a quello lavorativo visto che dopo il successo della trasmissione Michelle Impossible per festeggiare i suoi 25 anni di carriera è stata riconfermato il format per la prossima stagione televisiva Da quello che si può notare della nuova casa appena acquistata dalla conduttrice è che è un'esplosione di bianco e tonalità neutre Le pareti sono tinteggiate con tonalità sul beige che danno la sensazione di maggiore spazio Ci sono però anche elementi più scuri come il parche che in alcune stanze ha qualche tonalità in più Ma anche elementi in ottone che danno un tocco più raffinato all'appartamento Questi i pochi elementi che si intravedono dalle foto mai fan vorrebbero più foto e vedere lo stile della nuova casa della Hunziker Inoltre dalle foto pubblicate da Michelle si notano alcune decorazioni che ricordano animali ma anche molte foto che probabilmente conterranno le foto della sua famiglia Delle sue figlie e dei momenti belli della sua vita da ricordare Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video